Ora mettere in discussione la paternità significa, in una società come la nostra, mettere in discussione un'intera dimensione sociale. È come togliere una delle chiavi di volta, togliendo quella puoi mettere in discussione praticamente tutto. Detto che la maternità e la femminilità difficilmente possono essere in discussione perché hanno un radicamento biologico talmente forte, cioè il fatto di poter generare un qualche cosa che fissa l'identità, la rende solida, solidissima, cosa che al maschile non c'è. Il maschile è una costruzione prettamente culturale che viene definita dalla cultura di riferimento. Ora la questione della indefinizione, evaporazione della paternità, se preferisci, sta portando tutta quella serie di mutamenti identitari che noi vediamo nei giovani. Cioè è saltato uno dei riferimenti essenziali. Cosa ne pensi e se questa cosa tu la vedi nella tua esperienza di consultorio? Eh sì, purtroppo la vediamo. La vediamo e la vediamo fin da subito, no? Fino dalla nascita mi viene da dire, appunto questa evaporazione della figura paterna non riesce ad esempio a inserirsi nella separazione mamma figlio, no? E quindi questa simbiosi che va avanti spesso oltre ogni limite, no? Oltre ogni normale situazione, ecco. E poi la vediamo tanto appunto nel periodo poi preadolescenziale e adolescenziale, dove i ragazzi fanno veramente fatica a trovare quella identità di riferimento che gli permette poi di costruire una propria identità. La situazione ormai, vabbè, lo stanno dicendo tutti, è evidente, i dati sono più che espliciti, ma il malessere dei ragazzi, cioè andare in depressione a nove anni, cioè è qualcosa che è inconcepibile, ma nessuno avrebbe potuto immaginare che si sarebbe arrivati a una situazione del genere. Come pure finire in comunità 12-13 anni per la dipendenza, no? Quindi sono... Che peraltro, perdonami, queste forme sono state definite da fiori di ricercatori come Filippo Zimbardo, ma anche come alcuni ricercatori italiani, come strettamente collegate all'evaporazione della figura normativa paterna. Eh, infatti... Sempre deve esserci un nesto causale. Infatti, infatti, sì, per quello che citavo queste situazioni. Poi vabbè, già eravamo molto allarmati anche su tutto il tema del ritiro sociale, anche lì fra i giovanissimi, il Covid ha dato una manzata terribile su questo aspetto, no? Quindi, insomma, tutte espressioni di un malessere profondo che sono appunto riconducibili all'evaporazione della figura paterna. Cioè, allora, io credo molto nella sapienza della creazione, no? Allora, il fatto che un cucciolo d'uomo, un nuovo essere umano, nasca all'interno di una relazione, e fra l'altro non una relazione casuale, temporanea, ipotetica, ma una relazione d'amore reale e concreta fra un uomo e una donna, che in questa relazione d'amore dovevo prendersi cura del loro bimbo, in questa differenza di giochi, no? e di ruoli, di identità maschile e femminile, porta con sé una sapienza profondissima, perché è dal confronto che io posso acquisire la mia identità, ma devo avere un confronto di figure, mi viene a dire, forti, chiare, paradossalmente ne ragionavamo stamattina con mio marito, no? Sulle impostazioni educative, che stanno sempre più informando la logica, appunto, dei genitori che incontriamo, dove c'è una forte propensione alla protezione, no? Del bambino, che è tipicamente materna, no? La cura, la protezione del bambino è tipicamente materna, che però sta arrivando a situazioni che noi troviamo un po' estreme, anche in ambito pedagogico, no? Ci stiamo chiedendo se non è che forse si sta un po' esagerando, perché effettivamente il rischio è di portare avanti una idea di educazione dove il bambino, non si trova, il bambino, il ragazzo, non si trovano a doversi confrontare anche, come dire, con forza contro una identità diversa da sé, ma che lo obbliga quindi a ripensare a se stesso, i propri desideri, le proprie ambizioni, le proprie qualità, le proprie fragilità, eccetera, no? E' sempre tutto un tappetino di gomma, diciamo, io e mio marito vanno imprendendo queste cose, no? Prendendo spunto da questa cosa che i bambini ormai nelle scuole materne, nidi hanno tappetini di gomma dappertutto, no? Quindi come possono fare l'esperienza di cadere e sbucciarsi le ginocchia e sapere che quindi se cadi ti sbucci le ginocchia e quindi devi affrontare la frustrazione, il dolore, il cosa fare quando sto male, no? Tutto questo viene negato, no? E' più che ci sono tappetini di gomma dappertutto. Ecco, non è solo purtroppo un problema fisico, ma è anche proprio un problema educativo e psicologico e probabilmente tanto fonda la radice, questo appunto nella mancanza di un ruolo normativo, del ruolo che spinge fuori. Noi nella nostra esperienza di genitori facciamo spesso riferimento a un giochino che c'era nei giardinetti dove portavamo i nostri bambini da piccoli, che è una sorta di cappannetta fatta con mezzi tronchi di legno, no? Dove loro si arrampicavano e io, distinto materno, li bloccavo e dicevo no, che vi fate male, attenzione! E il papà invece che subentrava e diceva ok, sali e adesso come scendi? No? E stava lì finché loro non riuscivano, chiaramente tutelando, finché loro non riuscivano a trovare la loro modalità per scendere. Ecco, questo è un esempio, se vuoi piccolo, però esemplificativo della presenza di un papà e che se viene a mancare non permette appunto di fare l'esperienza e quindi siamo in una società di appunto tappetini di gomma, no? Cioè il rischio ovviamente, non voglio mai generalizzare perché non è corretto farlo, no? Però c'è un po' questa tendenza. Invece il paradigma che sta mancando è proprio quello dell'alleanza maschile-femminile, cioè di capire che sono tutte e due figure importantissime e a cui non si può rinunciare né l'una né l'altra. Quindi le donne devono poter essere donne fino in fondo e svolgere, come dire, le loro peculiarità, specificità nel miglior modo possibile, nella maggior libertà possibile, nella migliore realizzazione possibile. Ma anche il papà deve trovare il suo spazio, non può essere demonizzato nelle sue caratteristiche, ma deve trovare il suo spazio identitario e poterlo vivere anche lui nella sua libertà, nella sua espressione al meglio. E quindi in una logica appunto di alleanza, non c'è uno meglio di un altro. Siamo tutte e due meravigliosi, sia gli uomini che le donne. Dobbiamo trovare il modo migliore di esprimere il meglio di noi stessi. Sì, sono molto d'accordo ed è insomma molto interessante anche quello che ci hai raccontato. Io adesso, proprio grazie a questa tua suggestione, mi collegherei a un argomento che è collegato poi in fondo a tutto quello che ci siamo detti perché la natalità è legata alla salute delle famiglie e al concetto di famiglia all'interno di una società. Ora, noi sappiamo molto bene che in Italia, in Europa, ma in Italia in modo particolare, c'è un tema di crisi demografica. Cioè tu parlavi di piramide demografica invertita, di piramide demografica che presenta già delle soglie critiche adesso. Le proiezioni sono davvero allucinanti nel corso dei prossimi dieci anni, per non parlare di quelle che portano al 2050. Proprio al Pogliedro abbiamo avuto come ospite Giancarlo Blangiardo che ci ha raccontato della situazione demografica in Italia, delle possibilità ancora adesso di poter uscire dal guado e quindi dal disagio sociale, attraverso degli strumenti legislativi, degli interventi che però a questo punto hanno carattere d'urgenza, mentre fino a qualche anno fa potevano essere programmati con più calma, anche con più riflessività. Adesso sono urgenti, bisogna farli e basta a meno che noi non decidiamo di derogare e di lasciarci travolgere da quella che sarà un problema demografico gigantesco. Perché? Faccio una breve sintesi per i nostri telespettatori. Una società che non fa figli e ricordo a tutti che il 2020, 2021 e conclusione 2022 sono il triennio che ha avuto il record di nascite negative in Italia nel corso della sua storia, quindi abbiamo avuto meno di 400 mila nascite ogni anno preso in considerazione. Il 2022 è ancora da concludere, ma le proiezioni non sono buone. 400 mila nascite significa fondamentalmente andare a fare la metà dei figli di cui avremo bisogno. Questa tendenza è una tendenza che è nata da tantissimo tempo, da almeno 30 anni, ma anche qualche cosa di più. Il picco delle nascite in Italia l'abbiamo avuto proprio alla fine degli anni 60, inizio anni 70, i cosiddetti boomers che erano quasi 800, 900, hanno sfiorato il milione di nascite all'anno, cioè molto più del doppio rispetto ad esso. Questo significava avere una società giovane, una società pronta, una società turgida e come tutti i bravi economisti sanno, la crescita economica è legrata alla crescita demografica. Questa è una costante che sappiamo tutti benissimo, anche se non ce lo vogliono raccontare. Però possiamo anche dirci, dobbiamo dirci che cosa è intervenuto nel frattempo. Bene, sono intervenute delle convinzioni culturali, prima e fra tutti, tu l'hai citata in parte nella parte precedente, i figli rappresentano un problema e non più una risorsa, un problema economico, un costo, una serie di problemi gestionali, educativi, insomma stress, preoccupazioni, limitazione della propria libertà se intesa come non posso fare più quello che voglio e questo è già un tema. C'è poi il tema dell'autodeterminazione delle donne che ha creato una situazione notevolissima di cambiamento e voglio far notare a tutti che il grosso scalone della mancanza di nascite ha coinciso con il primo anno di legalizzazione dell'aborto. Sono stati abortiti in Italia in quell'anno 235 mila bambini su 800 mila nati, siamo arrivati immediatamente da 850 mila bambini a 600 mila da un anno all'altro. Da lì in poi, in maniera progressiva, costante, senza deflezione alcuna, abbiamo conosciuto un costante decremento delle nascite nel nostro paese. All'appello in questo momento mancano 6-7 milioni di, pensate un po', lavoratori. Sono quelle persone che mancano in Italia. Quando mancano le persone, un paese ricco, industrializzato, manifatturiero come questo che deve andare a cercare all'estero. In Italia abbiamo in questo momento circa 6 milioni di immigrati che vanno a colmare quel vuoto, non perché gli immigrati non debbano venire, ma certamente noi abbiamo una necessità di avere persone che ci aiutino e lo vediamo ad esempio con i nostri anziani, le badanti, cioè sono tutte persone di origine straniera che si occupano dei nostri vecchi e anche qua ci siamo confrontati tantissime volte. Ora, il tema della denatalità te lo pongo dal tuo punto di vista chiedendoti cosa ne pensi, qual è la tua esperienza in merito e cosa ne pensano le persone che vengono a trovarti? Allora, diciamo che la sensazione a livello proprio di popolazione è che ancora non ci si renda conto davvero il grosso dramma che ci aspetta da qui a pochissimo, dovuto appunto a questo drammatico calo delle nascite. Già qualcosa si vede, ci si rende conto che le case restano vuote, non si riescono né a vendere né ad affittare perché non interessano a nessuno, alcuni esercizi commerciali chiudono perché non hanno i clienti, le classi chiudono perché non ci sono alunni. Insomma, un po' di cose la gente inizia a sentirle sulla pelle, però forse il reale dramma ancora non è percepito. la situazione è tale che appunto ci si chiede come mai la politica sia così in ritardo su questo aspetto perché appunto fiorfiori di studiosi da Blangiardo a Rosina, ma tantissimi altri, denunciano questa situazione veramente da molto molto tempo, eppure sembrava di dire, non lo so, sembrava di parlare al vento, ecco, nonostante dati alla mano. Noi adesso, insomma, la speranza è che la gravità è ormai tale che non so se si riuscirà a tornare indietro, non penso effettivamente, ma almeno a arginare un pochettino la situazione si potrebbe, anche perché in realtà quando noi incontriamo le coppie che pensano di avere figli, che convivono, che vogliono sposarsi, il desiderio di avere dei figli, loro ce l'hanno, spesso ti dicono, ah sì, beh, un paio di figli, no? Prima. Poi quando arriva il dunque, è però il lavoro non è ancora stabile, ma la casa è piccola, dobbiamo cambiare casa, costa troppo, l'affitto non riusciamo ad arrivare. E quindi, insomma, se va bene si limita a un figlio, se non addirittura rinuncia, arrivano proprio a rinunciarci, no? Ma non perché loro non vorrebbero, ma perché si trovano in un contesto che non li sostiene in questa scelta. Appunto, in una situazione molto autolesionista, no? Di come è stato. Cioè, noi non offriamo nessun supporto a queste giovani coppie e ovviamente poi tutto questo lo ripagheremo in maniera pesantissima. Si calcola che nel 2050 il 9,5% del PIL dovrà andare sugli anziani per sostenere la spesa sanitaria, no? E teniamo presente che sulle famiglie, attualmente, andando a prendere, non tutto il PIL, solamente la parte dedicata alla protezione sociale, l'Italia dedica alle famiglie il 6,2%, il 57% lo dedica alle pensioni, di quello che viene dedicato normalmente alla protezione sociale. Benissimo, perché effettivamente in questo momento gli anziani vivono una situazione migliore rispetto alle famiglie con figli. Cioè, se vuoi cercare la povertà in Italia, devi andare a cercare le famiglie con figli. E questo è drammatico non solo perché ovviamente incide pesantemente sulla natalità, ma anche sulla qualità della crescita di questi ragazzi. Allora, è stato fatto da Openopolis, mi fa un'indagine interessante su chi può permettersi una settimana di vacanze durante l'anno. Bene, allora il 37%, chiaramente con grosse differenze fra nord e sud, comunque in media nazionale il 37% delle famiglie intese fiscalmente, quindi anche quelle dove c'è una persona sola, 37% delle famiglie non possono permettersi una settimana di vacanze. E va bene. Se però vai a vedere, le famiglie con due figli già salgono al 44%. Ora tu dici, vabbè, la vacanza è un di più, fino a un certo punto, perché la vacanza è quel momento dove si può stare in un ambiente relazionale, sereno, tranquillo, senza problema di andare a lavorare, eccetera, e quindi tendenzialmente magari creare anche un clima relazionale più positivo. Ma per dei ragazzi diventa l'occasione per uscire dal proprio normale ambiente e conoscere nuove cose, nuovi input, e quindi anche dal punto di vista formativo e culturale ha un'incidenza importante. Ecco, quindi c'è veramente un sistema in questo momento un po' autolesionista, per cui non solo non sosteniamo le nascite, ma in più quando sono nati non sosteniamo nemmeno adeguatamente le famiglie perché possano crescere. Sono state fatte delle iniziative, no? Ma sono sempre un po' sporadiche. Adesso, vabbè, un assegno per figlio, meno male, è già un primo piccolissimo accenno, però già le famiglie con tre figli i bonus in più non sono riusciti ad averlo, per dire. Però tante altre cose sono, non so, il bonus sport, il bonus cultura, no? Sono tutte cose appunto un po' sporadiche che non entrano invece in un sistema che reputa effettivamente che le famiglie e i figli sono una risorsa per la società e non un peso. Questo forse è un po' perché le famiglie vengono sempre infilate nel cantone dei servizi sociali, no? Quindi abbiamo un po' questa mentalità per cui la famiglia è sempre un problema, no? La concepiamo appunto secondo la logica dei servizi sociali e ci dimentichiamo che invece è una risorsa straordinaria. e poi a volte mi viene da pensare che anche il fatto che noi i bambini non li vediamo più, no? Non li vediamo perché non nascono, non li vediamo perché sono a scuola, non li vediamo perché fai le varie attività. Per le strade i bambini non si vedono, quindi a volte mi viene a pensare che lontani dagli occhi, lontani dal cuore, no? Io per fortuna vivo in un posto di villeggiatura, quindi almeno durante l'estate ho questo grande privilegio di vedere le famiglie che vengono in vacanze e sono con i bambini e si riempie di bambini e vedi i genitori che giocano con i figli eccetera. È una cosa bellissima ma che se non ce l'hai davanti alla vista poi ti dimentichi che esiste questo tipo di realtà, no? E dai priorità a tutta una serie di altre cose a livello società. Ebbene, certo, oltretutto riprendendo un po' di cose che tu hai detto, ci troviamo di fronte anche una difficoltà sulle pensioni banalmente, perché in questo momento la piramide dice che un lavoratore mantiene un pensionato, nel 2035 e poi nel 2050 si dovrebbe invertire la proporzione e quindi avremo due pensionati per ogni lavoratore, cosa che ovviamente renderà il sistema insostenibile. Cioè chi pagherà queste pensioni? Chi farà fronte ai bisogni di una popolazione anziana, cui ovviamente bisognerà dare cura e per bisogni che cresceranno, perché se la vita media continua ad allungarsi e questo è un bene, si allungano e aumentano anche i bisogni di queste persone, degli anziani e dei grandi anziani. Quindi queste sono domande che rimangono in evase e non si vede all'orizzonte una risposta strategica. Questo è una cosa, non so come, hai detto bene, è un'emergenza a cui però non viene data una vera risposta. Non so se hai questa sensazione, io sono terrorizzato e l'altra domanda che ti faccio, attaccata questa, è ovviamente cosa pensi del, ecco questo a me fa abbastanza arrabbiare per la superficialità con il quale viene raccontata questa soluzione, beh allora la soluzione è quella di introdurre immigrazione dall'estero. Ecco a me questa cosa detta così, te lo dico francamente, non soddisfa e nemmeno convince. Sì, allora due temi che si intersecano e che sono differenti fra di loro. Allora per quanto riguarda il tema appunto delle pensioni aggiungici anche quest'altro dato di un debito pubblico sempre in crescita e del fatto che fisicamente mancheranno le persone che potranno prendersi cura degli anziani. Quindi non solo mancheranno i lavoratori per pagare le pensioni, ma non troverai più i medici, non troverai più gli infermieri, non troverai più gli idraulici, non troverai più tutta una serie, cioè adesso la situazione ad esempio dei medici dove è stato fatto questo lavoro di chiudere, di fare il numero chiuso all'università, il dramma adesso noi ce l'abbiamo perché è stato fatto il numero chiuso e quindi è difficilissimo riuscire a trovare i medici. Siamo andati in vacanza con mio marito, ci ha molto colpito trovare uno striscione tipo quelli pubblicitari, attaccati a due alberi dove diceva la casa di riposo tal dei tali cerca medici, chi è disponibile si rivolga in comune. Ecco, però esemplificativo del dramma, nel senso che erano messi così male che sono arrivati a pensare per fare uno striscione da quanto è drammatica la situazione. Ecco, lì diciamo è dovuto a una cattiva programmazione, però questa situazione noi poi ce l'abbiamo perché fisicamente non sono nati i medici, non sono nati gli infermieri, non sono nati tutta una serie di altre persone. So che l'associazione famiglie numerose sta puntando al terzo figlio, nel senso il ragionamento che potrebbe avere un significato è famiglie che sono già aperte, perché qui è un problema proprio di urgenza ormai, non è più un discorso, vabbè ragioniamoci e ci lavoriamo a lungo termine, ma proprio perché è un problema di urgenza, dicevo certo che le famiglie che sono già interessate ad avere dei figli e hanno già avuto un figlio o due figli, potrebbero anche essere interessate a fare il terzo figlio e quindi mettiamo nella situazione appunto migliore per poter avere un figlio, così insomma nel giro di breve possiamo migliorare un po' la situazione, perché il grosso problema è non solo appunto che tante famiglie non fanno più figli, ma quelle che le fanno ne fanno uno solo e poi ci si parla lì, quindi insomma soluzione a breve termine ormai abbiamo fatto passare così tanto tempo che sono veramente difficili da attorvarsi, certo se alcune sperimentazioni che stanno partendo sia in ambito di conciliazione famiglia e lavoro, dell'armonizzazione dei tempi quindi della famiglia e del lavoro sia in ambito appunto di quaziente familiare piuttosto che altre soluzioni concrete ed economiche partissero da qui a pochissimo sicuramente qualcosa farebbero, ma non potrebbero invertire il trend, cioè comunque ci sono sempre più sempre meno donne in età fertile che possono avere figli, cioè ne sono già natte di meno e quindi già ce ne sono di meno. Poi c'è il tema dell'immigrazione, anch'io ho sentito questo allora intanto non è reale, cioè laddove abbiamo avuto degli immigrati nel giro di poco si sono adeguati al trend di fertilità degli italiani, quindi come dire stanno arrivati ma insomma non incidono poi positivamente nel modificare questo trend demografico e poi ovviamente dall'altra c'è tutto il grosso problema dell'integrazione allora noi ci siamo trasferiti da Genova al ponente Milcore, quindi pochi chilometri è la mia vita, eppure insomma ci è voluto del nostro per riuscire a inserirci comunque in un ambiente culturale che pur essendo italiano, pur essendo pure della stessa regione era comunque sicuramente diverso da quello da cui noi arrivavamo. Oltre a tutto come dire anche un po' la sofferenza personale perché comunque sia è chiaro che dove sei cresciuto hai relazione, hai affetti, hai tante cose che nel momento che vieni sradicato dal tuo paese per andare in un altro posto, perdi. E questo ovviamente il nostro esempio è banale ma invece quando parliamo di immigrazione questo è molto forte. Allora perdere le proprie radici intanto crea mediamente dei grossi scompensi. Noi avevamo fatto tempo fa un progetto che si chiama proprio dalle radici alle ali. È un progetto educativo però per dire che le radici sono fondamentali è molto interessante tutti gli studi che sono stati fatti ad esempio sugli africani immigrati o insomma a forza con i tempi della schiavitù in America dove sono stati completamente sradicati tutti gli effetti fortemente negativi e problematici che hanno portato poi nella società dove sono stati trasferiti anche al di là poi del tema proprio della schiavitù. Quindi intanto il tema di esseri sradicati in secondo io credo che tante delle persone che immigrano in realtà avrebbero preferito starsene a casa propria appunto nell'ambito della propria realtà della propria cultura se le situazioni e le condizioni gliel'avessero permesso. E poi appunto bisogna fare un lavoro di integrazione che intanto non può essere né improvvisato né si può pensare di farlo nel giro di pochi tempo ci vogliono dei decenni per permettere l'integrazione di più culture. Certo che può essere anche un arricchimento per amore del cielo perché il parlarsi cioè l'Italia è un esempio evidente di quanta ricchezza è nata nel confronto fra popolazioni diverse ma con calma con i tempi che serve l'integrazione culturale pensare di risolvere il problema demografico così con un schiocco di mani facendo arrivare mancano totte lavoratori, rimpiazziamo con totte persone che vivono da altri paesi socialmente non credo che sia sostenibile. Sì, sono d'accordo, non credo anch'io che lo sia. Speriamo insomma che si possa ragionare in maniera un pochettino più puntuale e organica rispetto a questi problemi. sia il grandissimo tema della denatalità che è l'oggetto poi di questa nostra puntata sia anche il tema dei flussi migratori che possono essere gestiti meglio con anche un altro tipo di offerta sull'integrazione rispetto a quello che facciamo adesso. Silvia, io ti voglio ringraziare per la disponibilità, per essere stata con noi, per averci raccontato e detto delle cose di estremo interesse per tutti che di fatto comunque ci incrociano perché quando parliamo di famiglia e di natalità è una cosa che riguarda tutti noi. Quindi grazie, grazie infinitamente. Grazie, grazie a voi. Un caro saluto a tutti. Un saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che la famiglia è la base, la colonna di ogni società che si vuole definire tale. e qua lo sanno molto bene gli analisti, i ricercatori, chi si è occupata di questo. Io come sociologo ovviamente non ho potuto far altro che occuparmi di questi argomenti. La famiglia è la più importante delle agenzie di socializzazione, la vera cellula che va a costruire tutta la rete che di fatto va a creare una comunità sociale anche di grandi dimensioni come quella statale o addirittura quella di un grande ambiente culturale come può essere definito l'Occidente. Affronteremo quindi problemi anche grandi ma con una buona consapevolezza e un bel rimboccarsi le maniche che riusciremo comunque a farcela. Vi ringrazio e vi continuo ad invitare a seguirci perché siete davvero numerosi e ci date un sacco di forza. A presto. Il tema della natalità è un tema gigantesco per il nostro paese, per la nostra società. Non riguarda solo l'Italia, tutti i paesi europei in particolare nei propri cittadini, quegli autoctoni hanno un problema di forte denatalità. Ci sono degli elementi diversi che sono entrati nell'andare a creare questo tipo di situazione. Il primo è un elemento culturale, cioè noi abbiamo iniziato a percepire i bambini e i figli in buona sostanza come un problema prima che una risorsa, ribaltando una delle convinzioni, degli asset culturali che hanno di fatto sostenuto invece l'Occidente nel corso dei secoli. I figli come risorsa, come possibilità di tramandare un patrimonio genetico, culturale e anche sociale da una generazione all'altra. Questo anelito è stato perso, è una forza che è venuta meno, lo si percepisce, lo si capisce chiaramente. Contemporaneamente però la denatalità, cioè il fatto che facciamo pochi bambini nei paesi occidentali pone dei problemi di sostegno degli asset sociali, così come li abbiamo conosciuti. Banalmente il welfare state che si sostiene proprio attraverso il lavoro dei più giovani. Chi pagherà i servizi sanitari per gli anziani e i grandi anziani? Chi pagherà le pensioni? Quali saranno i lavori che andremo a dover definire, visto che i bambini sono pochi? Ad esempio perderemo insegnanti, perderemo cattedre, avremo meno scuole. E così la ripercussione su tutti gli anelli della catena, quindi dall'attività sportiva all'università ai consumi che verranno a ridursi. Quindi un tema davvero di una portata enorme e fino ad ora almeno non si vede un disegno organico di risposta ad una che è definita ormai l'emergenza forse più importante del nostro paese in maniera particolare. Poi sapete che la Liguria è tra le regioni più vecchie del mondo, con un'età media avanzata altissima rispetto ad altre realtà e anche per percentuali di anziani rispetto ai giovani. Quali sono quindi le prospettive di sviluppo? Beh qua c'è da chiederselo e c'è anche da interrogare la politica su quali sono gli strumenti che vorrà mettere in campo per andare a trovare soluzioni rispetto a quella che è appunto come vi dicevo una vera e propria emergenza. Ma non demordiamo, continuiamo a fare informazione e servizio pubblico. A presto!